Fare la spesa ti pesa? Vorresti farla in modo più veloce e conveniente? Scopri Dragstore.it Collegati al sito e scegli tra più di 5.000 prodotti. Entro 48 ore il tuo ordine viene spedito e lo ricevi comodamente a casa tua. Sconti oltre il 50% sui prodotti per l'igiene e la cura dell'infanzia, della persona, della casa e degli animali. E per te 5 euro di sconto con il codice offerta TV. Il programma è offerto da Ben ritrovati gentili amici telespettatori ad un nuovo appuntamento con qui Lega Pro. Come al solito tantissimi gli argomenti da affrontare. Salutiamo il nostro ospite, il direttore sportivo Vincenzo Tridico. Ben ritrovato direttore. Grazie, grazie. Buonasera a tutti. Iniziamo subito commentando il girone C, o meglio le partite dello scorso weekend di questo raggruppamento. E sicuramente notiamo un cambio al vertice, soprattutto la partita tra Salernitana e Benevento finita 2-0 in favore della squadra di casa ha forse cambiato i valori di questo girone. Perché adesso appunto comanda la Salernitana in attesa del turno infrasettimanale. Ebbene sì, cosa che sinceramente personalmente non avevo previsto nel giro di due partite, è successo quello che stiamo appunto commentando. La Salernitana è balzata in testa la classifica e ora penso che sia molto difficile, anche se l'aspetta un turno il prossimo difficile a Lecce, però penso che ci siano tutti i presupposti per mantenere Salda la testa della classifica. C'è da sottolineare come appunto fino a meno di due settimane fa il Benevento fosse a più 4, addirittura con un turno favorevole ha invece pareggiato e dopo due settimane, nemmeno dieci giorni, si ritrova a meno 1. Infatti questa testimonianza di quanto questo girone sia stato difficile sin dall'inizio, praticamente è una cosa che abbiamo preventivato un po' tutti, una vera e propria serie B è stato ed è questo girone. E lo testimonia questo avvicentarsi tra queste due squadre che sono veramente due grosse corazzate. Il Lecce che vince con la Juve Stabia e aggancia proprio la squadra campana? Anche qui il nuovo mister Bollini sta facendo un grosso lavoro, penso sia già la quarta vittoria su 5 partite, quindi anche questo merito a lui, soprattutto è riuscito a mettere insieme quella che era già una grande squadra, anche questa era una squadra che sulla carta doveva stravincere questo girone e si è trovato nella prima parte ad avere qualche difficoltà, ma da quando è arrivato lui, diciamo da febbraio in avanti, sta mantenendo il passo delle grandi. Vivono momenti opposti invece le due squadre calabresi, il Cosenza bene, 2-0 Almatera nell'ultimo turno, zona play-out lontana, la Regina, ascoltate bene, meno 4 dalla salvezza diretta, con una Versa Normanna scatenata perché 4 vittorie nelle ultime 4 partite, addirittura si pensa alla salvezza a punto diretta senza passare dai play-out. La Versa Normanna è il classico esempio di quella squadra che a gennaio dopo il mercato invernale ha cominciato a vincere e non si ferma più, era spacciata prima del mercato invernale, invece adesso sta marciando, sta marciando a dei ritmi impressionanti. La Regina rischia tanto, lei aveva pronosticato una salvezza in un modo o nell'altro, ma qui le giornate iniziano ad essere sempre meno, 10 alla fine e i punti sempre di più. Io non vorrei essere smentito, ma continuo a crederci, continuo a crederci soprattutto per un presidente che sta dando veramente tutto, per una squadra che ha dei valori, io non riesco a capire come mai non vengono fuori certi risultati e per una piazza che non merita un'ulteriore retrocessione. Anche se in questo momento appare davvero vicina la retrocessione in serie D, perché è più di un periodo, è davvero da tantissimo tempo che la Regina non riesce più ad ingranare. Tolto quel momento di gennaio... Sembrava invertire la rotta con l'arrivo dei vari Belardi, Cirillo, adesso il Di Michele che è stato reintegrato. L'ultima gara a segno. Però vedo che comunque le cose non cambiano, io mi auguro che prima o poi invece le cose possano cambiare. Direttore, torniamo a parlare della gara tra Salernitana e Benevento e ascoltiamo le dichiarazioni del numero uno dei Granata, Claudio Lotito. Mancano dieci partiti, per noi devono essere dieci finali. La squadra deve mantenere questa concettazione, questo spirito di gruppo, questo spirito di sacrificio, questa umiltà che ha dimostrato oggi e consapevolezza dei propri mezzi, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Presidente, ha ritrovato Gabbionetta. Noi abbiamo preso dei giocatori di cui avevamo la consapevolezza delle qualità tecniche, agonistiche, qualità psicologiche e morale e caratteriali. Oggi è servito il Gabbionetta che noi conoscevamo e quindi ha costituito anche insieme a tutta la squadra che ha fatto una grande prestazione. Io non posso lamentarmi di nessun giocatore perché tutti hanno fatto una grande prestazione e quindi voglio dire che non a casa abbiamo vinto meritatamente. Abbiamo anche avuto varie occasioni di gol che grazie alla bravura del portiere del Benevento sono stati scongiurati. Tornati in studio parliamo del girone B dove Ascoli e Teramo continuano le rispettive marze e soprattutto continuano a vincere. Mr. Petroni e la sua truppa vedo che non si fermano più ma soprattutto i due goliador Donnarumma e Lappadula del Teramo che veramente stanno facendo un campionato impressionante. 16 gol Donnarumma e 13 Lappadula sono numeri veramente importanti. Se l'aspettava? No, anche se sono due giocatori di valore soprattutto Lappadula che era riduce di un campionato all'estero non esaltante. Ritornate in Italia veramente adesso si sta fermando e penso che dopo questa stagione merita sicuramente una categoria in più. Ricordiamo la classifica che vede Lascoli a 56 il Teramo a 52 con le stesse partite. Nell'ultimo turno i marchigiani hanno battuto 3-1 la Lucchese mentre il Teramo addirittura ha rifilato una cinquina in casa della Carrarese dopo essere andata sotto 5-1 il risultato finale. Dobbiamo parlare anche di un flop che il direttore Tridico a inizio anno invece non aveva previsto. Cioè l'Aquila che non prende il volo anzi. Anzi. Nell'ultimo turno sconfitta in casa 0-1 contro la Reggiana. Vedo che si incomincia a parlare di probabili soneri. L'amico Zavettieri che per me ha fatto... La prende sul ridere il direttore però... No ma scusa, può sul ridere. Sicuramente è una delusione perché c'è stato un momento dove 4-5 vettorie di fila hanno fatto risalire l'Aquila. Quindi dalla metà classifica si era portata al ridosso delle prime e comunque in una zona ancora favorevole può ancora agganciare i play-off. È una partita ancora da recuperare quindi tutto è possibile. Però sicuramente a questo punto arrivare in vetta prima in classifica con una vittoria diretta sarà veramente non difficile ma di più. Quasi impossibile direi a 10 giornate dalla fine. Reggiana 48 punti, Pisa 47 che nell'ultimo turno ha battuto il grossetto. Le chiedo velocemente, Pisa e Reggiana potranno inserirsi magari in uno sprint finale con l'Ascoli e col Teramo? Ma se continuano così penso proprio di no. Quindi sarà una bella lotta per i play-off. Sarà veramente un Teramo-Pisa e Reggiana a questo punto le squadre che lotteranno. Lotta play-off chiusa quelle squadre perché il Ponte d'Era è distante e anche l'Aquila sta dimostrando dei limiti. Penso proprio di sì. In fondo alla classifica invece nel Gironi C abbiamo scontrato il periodo positivo della Versa Normanna complimenti anche al proprio Acenza che senza panellizzazione sarebbe tranquillamente salvo. Invece adesso se la lotta ha quota 28 punti nell'ultimo turno battuto il fanalino di coda a San Marino 1-0 però è uscita davvero bene la squadra emiliana dal periodo negativo direi. Non è solo il proprio Acenza, anche il Sant'Arcangelo. Ma lo stesso San Marino. San Marino, cioè da quando hanno cambiato sia allenatore sia il mercato di gennaio queste squadre hanno dato veramente una svolta. Quello che ci sono sempre detti che poi le piccole squadre che sono in mondo della classifica nella seconda parte del cambiato è veramente difficile poi battere. Anche perché giocano con uno spirito diverso e giocano abituate a lottare per non affondare. Lei aveva previsto che sicuramente nel girone di ritorno ci sarebbe stato poi un cambio di rotta da parte di queste formazioni che invece nella prima parte avevano faticato. Direi di passare al girone A direttore. Bene. Passiamo al girone settentrionale dove abbiamo una nuova capolista che è l'Alessandria che nell'ultimo turno ha vinto a Pordenone. 1-0, successo importante. Le altre dietro si fermano. È la volta, o meglio è la svolta del campionato? Si fermano, siamo lì a un punto. Si fermano tra molte virgolette. Il Novara ripreso a vincere, il Pavia si è fermato ad Arezzo. Attenzione che però sul Novara c'è la possibile penalizzazione. Se l'aspettava questa notizia clamorosa direi? Questo no, sinceramente no perché pensavo che il Novara avesse risolto i problemi dopo la non iscrizione al campionato di Serie B. Quindi almeno a livello economico non aveva dato questo tipo di impressione. Però poi le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Quindi Novara, Pavia, penso che ormai il Bassano sia stato tagliato un po' dai giochi per il primo posto. Almeno per il primo posto, quindi poi invece diventerà una lotta per i play-off. Si deciderà tutto in base agli sconti diretti, direttore? Cioè saranno fondamentali? Un po' come lo è stato diciamo lo sconto tra Salernitana e Benevento? Può darsi. La squadra che gioca in casa in questi casi ha il vantaggio del pubblico amico e quindi può essere determinante. In fondo alla classifica invece potrebbe arrivare la penalizzazione di 5 punti ai danni del Monza che nell'ultimo turno però ha fermato il Como. Forse qualcosa è cambiato nel team Brianzolo. Ma diciamo che anche la penultima e la terza ultima partita sono pareggi. È vero che sono pareggi, però comunque si incomincia a vedere il lavoro di Mr. Pesta, soprattutto l'assemblaggio di questi ragazzi che sono arrivati praticamente tutti nuovi a gennaio. Quindi si è ritrovato con una nuova squadra. Non so se tutto questo alla fine riuscirà a centrare l'obiettivo della salvezza ma 5 punti incominciano ad essere tanti. Albino Reffe, Renate 0-0, Gianna Erminio, Propatria 1-2. Questo è sicuramente un risultato importante. Negli ultimi tre posti appunto ci sono Pordenone, Propatria e Albino Reffe. L'Albino Reffe che sembrava essersi ripreso invece è stato risucchiato dentro nel gorgo della classifica in fondo. Secondo lei di queste tre squadre l'Albino Reffe però è quella più attrezzata? Sicuramente penso che alla fine attraverso i play out ne possa uscire. Però ormai penso che debba lottare per questo tipo di obiettivo se non per l'ultimo posto. Quindi bisogna stare veramente attenti e da qui alla fine ogni partita diventa decisiva. Ricordiamo anche il successo della Cremonese 3-2 nel finale contro la Ferrari Pissarò che ha ridato un po' di ossigeno alla formazione appunto che giocava in casa contro la squadra bresciana. È tutto direttore, siamo davvero in chiusura. Sì, purtroppo il tempo è andato e abbiamo chiuso questa trasmissione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a te e a tutti i telespettatori. Vuole anche lei dire qualcosa in chiusura, fare un colpo alla Macalli? No, no, assolutamente. Spero gran bene a tutti, niente di più. Ok, va bene. Grazie ancora direttore. Io ringrazio tutti voi per averci seguito e vi do appuntamento la settimana prossima con qui Lega Pro. Il programma è stato offerto da... Grazie a tutti.